ok ragazzi iniziamo è successo santana è uscito come dream festival tante persone si sono chieste cosa succederà quando uscirà santana del festival a fabbio ripa a uscire a pazzo cosa che sta succedendo realmente andiamo a vedere subito che c'è praticamente questa possibilità di dream festival con santana levin dito e mazzi mentre c'è quest'altra possibilità con ciao nitta calz pino e basta quindi praticamente io supera la vizia o mi troverei quattro personaggi di cui due già li ho quindi andrei a sparare sulla croce rossa per sparare su me stesso andando a pulare nel banner di ciao anche se sappiamo tutti che il banner che io sto mirando ma nel banner di xiao nel banner di santana quindi ragazzi senza continuare oltre con le ciance e queste sono ciance sono sono chiacchiere da bar andiamo a pullare lui andiamo a pullare lui e lo pulliamo subito al primo pool lo pulliamo sicuro come la morte lo pulliamo subito perché lo dobbiamo non esiste sulla faccia della terra che io non abbia santana a che primo pull andato male mai non fa niente fa niente non ci arrabbiamo non ci dobbiamo incazzare assolutissimamente per nessuna ragione al mondo non ci dobbiamo incazzare ragazzi non ci incazziamo può succedere non è andato non è detto che santana non esca relax 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 siamo a due estrazioni 0 ssr ottimo ottimo devo dire proprio ottimo un banner in cui mi potrebbe uscire di tutto non mi sta uscendo niente ok tre estrazioni 0 ssr tre estrazioni 0 ssr tu due estrazioni 2 ssr tre estrazioni stiamo siamo alla terza estrazioni 0 ssr tre estrazioni non da tre ma facciamo quella line omaggio vediamo se in quello in omaggio un po di fortuna ci esce a quanto pare già iniziata nero la giornata non abbiamo neanche iniziato perché realmente non abbiamo nemmeno iniziato qualcosa 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 web cam verso di me grazie proprio oro bellissimo grazie non posso dire di essere scontento perché sempre un dream festival ma non è santana ok mazzo mi mancava non l'ho mai avuto perché quando c'era quando è uscito lui io non giocavo quindi ok diciamo ok diciamo ok non è ok ma diciamo ok non è ok ma diciamo ok non è ok ma diciamo ok ma ma com'è possibile no è incredibile 5 estrazioni una sola è uscito ognuno una sola ma che com'è possibile come dito sì sì è buono è buono è buono è buono santana 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 sto aspettando a te santana sto aspettando a te non mi interessa più niente di sto banner non c'è più niente che mi possa interessare in questo pan esci danna arcobaleno santana è il tuo momento esci fottutissimo santana 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 ne potete uscire due santana santana non mi uscire le vin non mi uscire assolutamente le vin non mi uscire le vin non mi uscire le vin non mi esce santana di dio una una cacca una pupu una pupu letteralmente una pupu però andami ma perché perché dico io perché santana 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 non può non può essere che io 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 non ho santana non esiste neanche sto pull neanche questo come è possibile ma non sto rosicando cioè non le sto neanche guardando le strazioni sto rosicando e ma sto tirando boom e basso si vuole per fermarmi non dire fermati quando dici fermati succede un disastro non c'è più niente non ritira quello che dico niente no ragazzi ma si può essere così sfidati e ma si può essere così sulla faccia della terra così spiegati si può essere tanta io non posso andarmene a questo dream festival senza salta non esiste che io me ne vado da questo dream festival senza santana non esiste non esiste ok dai 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 non è santana e brayana verde e snyder rosso da dimmi qualcosa santana 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 io lo so che tu ci sei lo so che mi stia ascoltando lo so che sei qua da qualche parte in questi dannatissimi tool e so che mi uscirai perché mi devi uscire non mi vuoi non uscire mi devi uscire questo sei tu questo sei tu questo mi devi uscire mi devi uscire se mi esce levin io sbatto tutto per l'area butto tutto giù dal balcone live se mi esce levin santana 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 non dire niente chiudo gli occhi perché santana è come se fosse uscito dopo levin è come se fosse uscito dopo levin santana dove sei vieni da me abbracciami e fammi sentire che che però non è che controllato di questo grande ci sono possibilità di altri vecchi df a reta più bassi navale ma è indecente c'è io siamo quasi a 20 pull su 20 pull sono usciti 5 ok ci fermiamo mezzo secondo solo per vedere un attimo le chance generali che mi è uscito due volte gito ma devo proteggito due volte dannatissimo agito dannatissimo 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 e per me esci tu non mi esci tu 20 mila di attacco non mi esci tu non mi esci tu non mi esci tu innamorato quella ragazza che ha fatto un altro uguale sui tessi occhi non c'è non può statisticamente nel mondo non può non uscire misa non esiste sulla faccia della terra che sarà non è scambia non è sì non c'è a possono uscire per quelli la vecchia almeno dare valore se io non ho controllato sto pullando e basta perché non c'è non non esiste sulla terra che non esiste c'è anche di se di qua e di valore napoleon di qualche cosa c'è tu levati si incrociano non mi importa di te ma non ora non in questo momento non in questo istante ci sono tantissima carne al fuoco dannatissimo lino che non mi uscire mai no mi banca solo santana in quel banner ma non c'è me ne manca uno su cinque su quattro quanti nessuno di qua invece c'è ragazzi ritorniamo chi vogliamo lo sappiamo è sempre lui solo e soltanto lui non c'è un altro personaggio non mi interessa di nessun altro mi interessa solo di dannatissimo carlos santana quanti tiri sta cento non dice neanche la gioia che piace qualche ssr che può servire niente la gioia di di avere un ssr io non a me non esiste c'è non c'è non è possibile c'è non di essere così sfortunati non esiste sulla faccia della terra è incredibile la sfortuna che sto rendendo una cosa indecente venti pull non mi sono usciti 5 giocatori 5 dai 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 ma perché cosa che io non lo volevo agito e tutta quella roba hanno detto non è scena non parlare io chiudo gli occhi voglio usare solo l'audio non parlare io chiudo è riuscito a una mezza gioia sei uscito dannato sei uscito sei cittadina e montata di riuscire ancora santana marobbra dio ti ho aspettato per così tanto tempo se riuscì ce l'è ti sei ricordato di me mamma mia ora io avrò il brian perfetto finito ora avevo un brian dio ora avrò brian perfetto perfetto brian e ma di muovere di schiena questo qui sarà perfetto sarà la rivoluzione sarà la distruzione ma non abbiamo finito ragazzi non abbiamo finito non abbiamo finito perché santana non è ancora uscito ritira quello che diretti santana 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 non fare lo stupido con me non fare lo stupido non fare lo stupido non fare lo stupido perché io ti gioco dal primo secondo che si è uscito non esce niente è un pazzo è una pazza sta luce pazza no no santana tu non puoi fare così con me non puoi fare così come io ti gioco da quando sei uscito ti giocavo da quando c'era solo il baulle di te no santana no no santana no santana 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 non farlo stupido questo è un'altra luce ok no le luci sono tutte illuminate c'è qualcosa esce qualcosa esce qualcosa a cui l'ottino un ottello aquilotto aquilotto non parlare alziamo la voce sentiamo solo il rumore non parlare ascoltissimamente perché io ti dico non parlare e tu parli cioè se c'è 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 c'ho la speranza di girarmi e tranne come le distruggi così cattiva finito non mi è uscito non mi è uscito cioè non mi è uscito a me santana non mi è uscito ho finito tutto tanta non mi ha voluto si è dimenticato di me stesso si è dimenticato di me com'è possibile 21 full e non è uscito santana ma che me ne frega cosa me ne frega la fortuna per me non è andata come volevo sono uscite tutto quello che non volevo tranne per brian che è uscito il brian che per me il brand perfetto sicuriamoci le possibilità che mi possa uscire single shop sempre bomba razzombrozzo possiamo il ticket dell'anniversario non c'è neanche io perché posso farlo a questo punto non siamo brian verde mi è uscito quindi non mi serve più lo siamo per un rosso sperando in uno snider rosso e per ora lacrime di corte di toccodrillo e torniamo a casa sconfitto perché questa è una sconfitta su tutta la linea è una dannatissima sconfitta siamo andati per santana è riuscito tutto tranne che santana è riuscito addirittura un doppio giro di cui con me zainer ah ma è una mezza gioia e secondo te no io potrei mai prendermi leo vittorino benji oh please grazie deve uscire a costo di spendere tutta la carta di credito deve uscire santana deve uscire il dannatissimo dannato dannato non mi toccare con la mano deve uscire santana santana se mi stai sentendo io ti prenderò ti troverò e ti farò un miglio perché tu sei mio mio non mi guardare cos'è dai santana e segnalati con la scena saltana se mi stai guardando se mi stai sentendo tu mi uscirai tu mi uscirai povera prea si ti dobbiamo vedere prima mentre la picchiavi perché abbiamo dovuto dare grazie perché entrata nel gabinetto che voglio dare l'esempio no? l'esempio eh ridammela ridammi il gatto dammi il gatto ragazzi questa estrazione è triste perché non è uscito il mio il mio santana non è andata malissimo perché ho preso sia agito che mazzo che non avevo però ragazzi di più di più quel santana si deve prendere si deve assolutissimamente togli mi sto gatto dalla spalla togli mi sto coso dalla togli mi sto cosino dalla spalla ok ragazzi per questo video è tutto allora è mio vi saluto con tanta tantissima tristezza